Guardi, ho letto proprio le dichiarazioni di un padre del Ayut, la chiesa che soffre, che opera direttamente in Siria, quindi una persona che vive il campo e conosce le persone. E purtroppo l'Occidente, l'Europa in particolare, non sta facendo nulla per aiutare queste persone che vogliono rimanere nelle loro terre. Noi le abbandoniamo pensando di risolvere il problema facendo una deportazione di massa di persone che vengono sradicate dalla violenza terribile messa in campo dall'ISIS in questo momento. Perché invece non lavoriamo a livello internazionale nelle aree di quei paesi che non sono soggette a guerra, penso al nord dell'Iraq, penso a quell'area della Siria. Quelle non soggette a guerra è l'altro discorso, parliamo di zone di guerra. Per cercare di creare in queste aree dei villaggi protetti, dove perlomeno la gente non è sradicata dalle proprie radici, dalla propria terra, dal proprio paese. Lavoriamo in questa direzione, capisco che non è una soluzione che si può mettere in campo dall'oggi al domani. No, più che altro, questi siriani sono andati con i cartelli, mamma Merkel, in Germania. E altrettanto dico che chi scappa da una guerra deve essere tutelato. Ricordo, come avrete fatto sicuramente in precedenza, che la percentuale però, per quanto riguarda il nostro paese, di siriani lo scorso anno, di chi ha fatto domanda, su 170 mila arrivi, sapete quanti sono stati di siriani che hanno fatto domanda di rifugiato politico in Italia? 502. Su 100, questi sono gli ultimi dati definitivi. No, ma infatti la domanda alla Lega riguardava questa distinzione, l'abbiamo fatta anche con questa drammaticità, però la domanda per la Lega è questa, rispetto ai rifugiati, cioè a questa categoria di persone, anche su questi siete per... No, no, chi scappa dalla guerra, l'ha sempre detto anche Salvini, ha diritto di essere protetto. Capiamo qual è la migliore soluzione da proporvi, se quella, ripeto, di una deportazione di massa nei loro paesi o da un intervento anche di tutela? Grazie a tutti! Grazie a tutti! A presto! Grazie a tutti.